Vi ringrazio della visita che ci avete fatto, spero di essere stato utile e chiaro nelle spiegazioni, è molto importante che voi trasmettete ai vostri clienti finali la nostra filosofia sulla qualità, la qualità non deve essere fatta a parole ma a fatti, per fare una fatti costa molto e naturalmente con tutto questo bisogna saperlo spiegare al cliente perché il cliente si rende conto che sta comprando una cosa di prestigio, ci vuole amore da parte nostra ma noi speriamo di trasmettere anche a voi che vendete lo stesso amore che abbiamo a noi nel futuro.